Il Beach Volley chiede di ripartire ma per ora resta al palo nonostante il via libera dalle attività sportive. Noi siamo andati a Marotta nell'impianto di una delle società marchigiane che hanno scritto una lettera aperta alla federazione. Pierpaolo Rivalta. La sedia è la prima sulla destra e ci alleniamo sul campo 1. Così non è più Beach Volley, una disciplina imprigionata nel protocollo deciso dalla federazione soprattutto per la pallavolo, tanto che ora non riesce a ripartire. Beach Volley e pallavolo sono due sport completamente differenti, non hanno niente a che vedere, uno a chiuso, uno d'estate si può praticare all'aperto e vorremmo anche che si potesse praticare 365 giorni l'anno, quindi con un campionato apposito per il Beach Volley sarebbe il sogno di ogni atleta che pratica questo sport. Molte le contraddizioni, Beach Tennis e Foot Volley ad esempio, scendono regolarmente in campo ed ora in spiaggia capita di vedere amatori che giocano anche a Beach Volley, cosa impossibile per tesserati e corsisti, nonostante gli investimenti sostenuti dalle società per mettere in sicurezza gli impianti specializzati. Abbiamo investito molte risorse, abbiamo creato, visto che non è possibile utilizzare gli spogliatoi, abbiamo creato delle docce esterne fruibili per tutti, abbiamo acquistato dei macchinari per sanificare i campi in maniera rapida e veloce, tutto quello che comunque sia concerne abbiamo, come si vede in tutta la struttura, diviso gli spazi, segnalato le distanze e quant'altro, quindi ci aspettiamo che più o meno sia così per tutti fondamentalmente. I beacher che siano professionisti di vertice o giovani delle scuole restano in attesa di un segnale, anche nelle Marche dove questo sport ha grande seguito. Assolutamente, nella regione Beach Volley ci sono tanti campioni, ci sono tantissimi amatori, c'è un movimento molto forte e sempre in continua crescita, quindi ci auguriamo che continui così perché fino a prima del lockdown questo sport era veramente in ascesa.